La disabilità non deve impedire ad un ragazzo di partecipare alla gita con i compagni di classe. Un liceo di Pordenone si è mobilitato e oggi Jacopo in carrozzina e ad Artaterno. Studiare e sconfiggere la solitudine. L'obiettivo di una proposta di legge presentata in regione punta a costituire un osservatorio. La norma non ha precedenti in Italia. Sono oltre 13.000 italiani venduti per Italia e Finlandia. Sabato al Friuli valida per la qualificazione ad Euro 2020. Mancini ha convocato anche il bianco-nero Lasagne e l'ex Quagliarella. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia che apriamo parlando di un progetto ambizioso che è stato presentato oggi a Udine in Sala Aiace. Si chiama Sapremo e punta a contrastare il fenomeno della droga purtroppo sempre più diffuso tra i giovani. È rivolto a 500 studenti di 10 istituti di Udine e Cividale. Attori protagonisti di questo progetto sono tra gli altri la Questura, il Dipartimento di Prevenzione, il Mondo della Scuola ma anche la Danieli Di Butrio e Confindustria. Scuola, famiglie, istituzioni, imprenditori e forze dell'ordine uniti nell'impegno a fare qualcosa di utile e concreto per un futuro migliore dei nostri ragazzi. È stato presentato in Sala Aiace a Udine il progetto Sapremo, acronimo di Salute, Protagonisti e Emozioni, che ha l'obiettivo di promuovere la salute dei giovani e contrastare il disagio adolescenziale attraverso iniziative finalizzate all'educazione alla legalità e alla prevenzione dell'uso di sostanze psicoattive dei comportamenti a rischio. La Questura di Udine, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, quello delle dipendenze dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata ed in partner nariato con la Danieli Di Butrio e Confindustria Udine, ha studiato questo progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio. Il fenomeno delle dipendenze patologiche da sostanze illegali e legali, spiegano i promotori, sta rappresentando un disagio sempre più evidente nella popolazione giovanile, motivo per il quale risulta fondamentale condividere una rete articolata e coordinata di attori pubblici per contrastarlo. Il progetto prevede tra l'altro incontri di approfondimento con gli insegnanti ed altri con gli studenti sui temi della responsabilità e legalità e sulle scelte di salute. La decisione sul nome Sapremo è basata su alcune parole chiave. Salute, che è il fulcro del progetto, in quanto valore garantito in primis dalla Costituzione. Protagonisti, termine che richiama il ruolo attivo dei giovani. Emozioni, infine, attraverso la quale si vuole porre l'accento sulla più evidente caratteristica del passaggio del ragazzo verso l'età adulta, ovvero la ricerca di un benessere emotivo psicologico, connesso alla ricerca più ampia della realizzazione del Sè. Sapremo è il primo progetto del genere in Italia. Sentiamo allora alcuni dei suoi protagonisti. È un'iniziativa che vede innanzitutto la questura raccogliere attorno a Sè, oltre ad altri enti istituzionali che operano nel campo della salute, anche dei partner privati, perché cerchiamo di incidere su un aspetto fondamentale che è quello della domanda di droghe. Il fatto stesso che oggi siamo qui a lanciare questa iniziativa significa che la situazione, anche se non è a livelli di guardia, comunque destra qualche preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda il consumo di droghe da parte dei giovani. Circa il 30-35% dei giovani fanno uso di droga e come se non bastasse c'è una forte penetrazione attuale anche nelle classe medie e non solo nei licei. Il 35% è un grosso numero. È un numero che fa riflettere e di conseguenza, per non stare solo a guardare, abbiamo concordato di cercare di fare qualcosa per convincere, per far capire ai ragazzi, che è la strada che sembra facile, ma poi diventa molto più difficile. Le ragazze e i ragazzi si avvicinano sempre più precocemente alle sostanze, tendenza a usare più sostanze contemporaneamente, sia legali che illegali, e l'affermarsi sempre più, diciamo così, sempre più importante di nuove sostanze, nuove sostanze psicolative che vanno ad aggiungersi alle vecchie sostanze, non è che le sostituiscono. Le sostanze quando diventano un problema, sono un problema che danno risposta, è una risposta sbagliata senz'altro, ma danno risposta ad altri tipi di problemi e su quei problemi che stanno a monte noi dobbiamo andare a lavorare. Preoccupazioni che trovano conferma nella cronaca praticamente quotidiana. Ha preso a Sacile un diciottenne ritenuto uno dei principali fornitori di marijuana agli studenti minorenni del circondario. Per oltre un anno ha ceduto lo stupefacente a prezzo doppio rispetto a quello d'acquisto con notevole guadagno illecito. Sono state documentate più di 400 cessioni che avvenivano vicino alle scuole, alle fermate degli autobus e vicino alla stazione ferroviaria. Il ragazzo è stato denunciato dai carabinieri della radiomobile della compagnia di Sacile al termine di un'indagine iniziata nell'ottobre scorso. I giovani acquirenti e consumatori di sostanze stupefacenti, una ventina, sono stati segnalati alla prefettura. Due richiedenti asilo domiciliati in Carnia sono stati denunciati per spaccio di droga a minori e per estorsione nei confronti di un ragazzino di Tarvisio. Denunciato per spaccio ed estorsione un cittadino nigeriano richiedente asilo che vive a Tolmezzo. Lo straniero è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di proprietà di un minorenne di Tarvisio. Quest'ultimo aveva acquistato dal nigeriano, senza pro poi pagarla, 50 grammi di marijuana del valore di 500 euro. A scoprire il giro di droga e l'estorsione legata alla consegna del telefonino sono stati i carabinieri di Tolmezzo. Coinvolto nella vicenda anche un altro nigeriano, anche lui richiedente asilo domiciliato a Socchieve, a sua volta denunciato per spaccio. Allarme nella notte a Trieste in una palazzina di Via Giulia dove è scoppiato un incendio che ha prodotto molto fumo. I pompieri hanno fatto uscire tutte le famiglie dal condominio per areare i locali e domare il rogo. Tre persone sono state controllate dall'equip medica per sospetta intossicazione. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza tutte le famiglie hanno fatto rientro nei loro alloggi. Brutto incidente in Via Montereale a Pordenone all'Alba. Il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo che è finito contro alcune vetture in sosta. In suo soccorso sono giunti i vigili del fuoco e l'equipe medica di un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale. Per fortuna l'uomo è rimasto ferito solo in maniera lieve. Una donna invece è rimasta ferita gravemente. Questo pomeriggio in un incidente stradale ha caduto in via sottomonte a Butrio per causa in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della radiomobile della compagnia di Palmanova. La donna che viaggiava sola ha perso il controllo dell'auto che è finita in un campo capottandosi. A liberarla sono stati i vigili del fuoco di Udine che poi l'hanno affidata all'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale. Sul posto è atterrata anche l'eliambulanza. Condizioni igienico-sanitarie precarie per illuminazione e areazione, pessime condizioni di pulizia e sanificazione dei locali, ambienti insalubri, impianti elettrici non a norma e pericolosi. Si è presentato così il centro massaggi cinese Tuina Shanghai di Venzone durante un controllo eseguito dalla Polizia di Stato del commissariato di Tolmezzo con i tecnici dell'azienda sanitaria. L'attività ispettiva ha riscontrato elementi che fanno presumere l'attività d'esercizio della prostituzione. Per questo il comune di Venzone ha emesso un'ordinanza urgente che ordina la cessazione di ogni attività commerciale nei locali del centro massaggi. Sospensione invece della licenza per 20 giorni per il Bubis di Aviano. Sigilli al Bubis di Aviano. Il locale di via Pordenone, su disposizione del questore Marco Dorisio, dovrà restare chiuso per 20 giorni, ai sensi dell'articolo centro del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento cautelare di sospensione è stato adottato in via di urgenza in seguito al grave episodio che si è verificato il 16 marzo. Quella notte una guardia giurata libera dal servizio si trovava all'interno del locale quando erano arrivati tre bikers con i giubini riportanti le fige e els angels. A un certo punto, per banali e futili motivi, la guardia giurata che stava fumando una sigaretta elettronica era stata apostrofata dal terzetto. Poco dopo l'uomo al rientro nel locale, dopo una telefonata, era stato aggredito alle spalle con pugni e calci, finendo a terra con i tre bikers che per circa un minuto proseguivano nel pestaggio, distruggendogli il cellulare e lasciandolo a terra tramortito. Non paghi, gli avevano urlato, adesso hai capito chi sono gli els angels. Gli aggressori quindi si erano allontanati, mentre il malcapitato era dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale civile di Pordenone, dove gli è stata diagnosticata un'infrazione del pavimento orbitario sinistro, con una prognosi di 21 giorni. Alla luce del grave pestaggio, scaturito da un futile banale motivo, il questore ha adottato il provvedimento cautelare. Il Bubis di Aviano e il decimo locale del Friuli occidentale, gli altri nove si trovano a Pordenone, al quale viene sospesa la licenza per problematiche riguardanti la sicurezza pubblica dallo scorso maggio a oggi. Arrivano fino in Friuli Venezia Giulia le polemiche sulla nave Mare Ionio della ONG Mediterranea Saving Humans, che ieri ha tratto in salvo 49 naufraghi in acque internazionali fra la Tunisia e l'Italia ed è in attesa di entrare nel porto di Lampedusa. In un tweet rilanciato dal presidente della regione Massimiliano Fedriga, il ministro dell'interno Matteo Salvini ha detto di contare sull'arresto dei responsabili della nave, che ha spiegato hanno scelto di dirigersi verso l'Italia e non verso la Libia e hanno disobbedito per due volte alla Guardia di Finanza che aveva chiesto di non entrare nelle acque italiane. L'armatore della nave è il triestino Alessandro Mez, ex consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, che abbiamo sentito al telefono. In questo momento la nave dove si trova? In questo momento la nave si trova a 300-400 metri dalla costa di Lampedusa, dove ha riparato, visto le condizioni meteomarine che stavano mettendo a rischio la sicurezza dell'equipaggio, delle persone salvate a bordo e quindi è effettuato il salvataggio. La direzione prete è stata quella a nord, il luogo più vicino dove riparare era proprio Lampedusa. Ma ci sono situazioni di criticità? Una di queste persone avrebbe la polmonite e quindi ha necessità di cure urgenti. Le altre persone stanno mediamente bene ma dopo alcuni giorni passati in mare con un motore in avalia su un gommone a rischio affondamento hanno bisogno assolutamente di essere sbarcate e di essere accolte in un loro sicuro. Sì, però su questo punto è stato avviato un braccio di ferro fra la vostra ONG e il Viminale. Il mare ha precise regole enorme che impongono di salvare le persone in difficoltà. Questo è quanto abbiamo fatto, tutto è documentato e documentabile. L'operazione è stata fatta sempre comunicando quello che stavamo facendo nella modalità in cui lo stavamo facendo. Abbiamo seguito le disposizioni che ci venivano date, quindi per quanto ci riguarda quello che era giusto fare e doveroso fare lo abbiamo fatto e 49 persone oggi sono salve e 49 persone non sono state riportate nei centri di detenzione e di concentramento in Libia. noi siamo non con la coscienza a posto, molto di più, siamo proprio orgogliosi di poter affermare che abbiamo salvato 49 persone. E c'è un'altra polemica, un'altra questione che rimbalza dai social al nostro territorio. Il 30 marzo sarò al Congresso Mondiale della Famiglia a Verona per testimoniare che i diritti dei bambini non sono comprimibili, che spetta ai genitori, non a strutture ideologizzate, crescere ai figli. Con questo post su Facebook il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato la sua partecipazione all'evento che da diverse settimane sta facendo discutere a livello nazionale. L'iniziativa in programma dal 29 al 31 marzo nella città scaligera gode della benedizione del ministro leghista della famiglia Lorenzo Fontana, ma anche il vicepremiere Salvini e il governatore del Veneto Zai hanno annunciato il loro sostegno e la loro partecipazione. Lettura diametralmente opposta per gli esponenti di maggioranza del Movimento 5 Stelle che hanno subito bollato il congresso come ritorno al Medioevo. Via libera della Commissione Paritetica Stato-Regione al nuovo patto finanziario tra Roma e Trieste firmato nelle settimane scorse dal ministro dell'economia Tri e dal presidente della regione Fedriga che comporterà un risparmio di 834 milioni di euro per la regione nei prossimi tre anni. Il disco verde è arrivato dalla prima riunione della Commissione oggi a Roma. La Commissione ha inoltre ricevuto la comunicazione dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si sta procedendo alla sostituzione del costituzionalista udinese Mario Bertolissi dimessosi nei giorni scorsi da componente della Commissione. Proprio sulla nomina del nuovo componente, secondo indiscrezioni in attesa di conferma, c'è un significativo interesse da parte del Movimento 5 Stelle. Un porto italiano dimenticato potrebbe diventare una porta cinese per l'Europa. È il titolo di un lungo reportage a firma di Jason Horowitz che il New York Times dedica al porto di Trieste, al progetto cinese che prevede di farne uno dei principali terminali della Via della Seta. Per secoli, scrive il giornalista, questa città portuale cosmopolita sulla punta settentrionale della costa adriatica italiana ha funzionato come un punto di riferimento geografico tra gli imperi. Poi per quasi 70 anni la stella geopolitica di Trieste si affievolisce. Il suo vecchio miscuglio di culture dell'Europa centrale diventa stantio come un vecchio strudel in uno dei suoi eleganti caffè. Ora prosegue Horowitz, grazie a una Cina in ascesa, Trieste sembra pronta a tornare al centro di un mondo in riallineamento. La cartiera di Moggio Udinese è importante perché è una ricchezza per l'economia e il lavoro della montagna. Gli imprenditori che tuttora la guidano e la sostengono con profitto dimostrano grande coraggio e attaccamento a questo stabilimento e la sua attività quindi alla comunità locale. L'ho detto l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini intervenendo a Moggio nella sala del Consiglio Comunale al conferimento della cittadinanza onoraria da parte del Comune a Munaro, presidente e direttore generale delle cartiere Molle S.P.A. Originario di Alpago, nel bellunese, Munaro è stato impegnato a lungo in Fiat nel settore robotizzazione delle produzioni per poi essere chiamato a Moggio prima come dirigente ruolo che ha ricoperto per 24 anni poi diventando presidente della società. Costa Crociere assume 48 persone in Friuli Venezia Giulia per lavori a bordo delle proprie navi in giro per il mondo. La selezione è in programma a Trieste l'8 maggio e si svolgerà con il supporto dei centri per l'impiego regionali nella sala colonne della regione e a bordo della stessa nave Costa traccata al porto di Trieste. Quattro sono i profili per ciascuno dei quali Costa Crociere assumerà 12 persone per almeno 4-6 mesi. I candidati possono presentare la propria candidatura sul sito della regione. La disabilità non deve impedire ad un sedicenne di partecipare alla gita insieme. ma i propri compagni di classe. Per questo il liceo Leopardi Majorana di Pordenone si è mobilitato e oggi Jacopo in carrozzina è ad Artaterme per partecipare alla settimana verde. Carrozzina o meno di andare in gita a 16 anni accompagnato dai genitori non se ne parlava proprio e Jacopo lo ha detto chiaramente alla sua mamma peraltro d'accordo con lui. Così alla settimana verde organizzata ad Artaterme dal liceo classico Leopardi Majorana di Pordenone ci ha andato solo con i suoi compagni di classe. Merito della scuola che ha fatto tutto il possibile perché il suo studente sedicenne costretto in carrozzina non dovesse rinunciare a questa bella esperienza. L'istituto ha pensato a tutto, dalla corriera con apposita pedana utilizzata per gli spostamenti alla struttura scelta per il soggiorno abituata ad ospitare ragazzi delle scuole anche diversamente abili. Tutto normale insomma come raccontano all'hotel Parcoasi di Piano d'Arta dove si trovano in questi giorni i ragazzi. Questi sono dei soggiorni verdi che noi organizziamo da circa una ventina d'anni nei mesi di marzo, aprile e maggio. Jacopo non è il primo ragazzo che viene sulla carrozzella ma sarà il decimo. Viene, vuole stare con i suoi compagni e quindi noi facciamo in maniera, in tutte le maniere naturalmente, con un accompagnatore. Viene accompagnato in tutti i posti dove loro vanno. Sono partiti con la corriera da qua, col pullman, sono arrivati a Nilleggio vicino al campo sportivo per cui un po' lontani dal paese e io ho portato Jacopo con la mia macchina e il suo accompagnatore fino a dove li aspettavano e poi tutti insieme sono andati per le vie del paese. Naturalmente avevano il pranzo sacco, un pranzato fuori e così lui fino alle 13.30 è stato con i suoi compagni. La Fondazione Friuli ha presentato a Pordenone il Bando 2019 dedicato al restauro che assieme a quelli welfare e istruzione completa le grandi linee di intervento dell'istituto. 600.000 euro a disposizione del territorio. Un budget di 600.000 euro per recuperare non solo beni storici artistici ma anche luoghi di aggregazione. È la dotazione del Bando Restauro della Fondazione Friuli presentato a Pordenone alla Casa Zanussi che assieme ai bandi welfare e istruzione lanciati nelle scorse settimane fa parte delle grandi linee di intervento della Fondazione. Il Bando, sostenuto dal contributo di Intesa San Paolo, è il risultato di una forte sinergia con le istituzioni pubbliche e private in grado di raccogliere le istanze provenienti dal territorio e di sostenerle seguendo nella realizzazione. Si interviene cercando di contribuire a dare degli elementi di nuova attrattività per quelli che sono le nostre comunità e i nostri paesi. Il fatto che nell'esperienza dello scorso anno i contributi messi a disposizione sono stati moltiplicati per 5 volte e mezza con l'intervento di investitori indotti alla partecipazione di questo bando, credo sia un risultato straordinario. Abbiamo sostenuto circa una sessantina di interventi. Abbiamo cercato di dare l'accezione più ampia del termine restauro applicandolo sì alle opere d'arte ma anche al recupero di fabbricati e interventi nei borghi storici interventi anche legati al recupero di una pellicola che è la Sentinella della Patria diretta da Kino Ermacora. Il mecenatismo però non è ancora entrato a far parte delle nostre abitudini. Il problema del mecenatismo è un problema, è un problema che dobbiamo aggredire, affrontare senza spaventarci. Dobbiamo sempre di più spiegare che cosa significa per esempio l'Art Bonus, cosa vuol dire sponsorizzare un'opera d'arte o un'iniziativa culturale in un territorio. Per accedere al bando è necessario inoltrare la propria richiesta sul sito della Fondazione Friuli entro il 17 aprile. La Regione rinnova l'impegno a proseguire l'interlocuzione con il Governo per risolvere i punti critici che impediscono il via libera all'istituzione del Fondo Indennezzo Risparmiatori e si impegna a favorire l'istituzione di un osservatorio che ricostruisca e renda informazione sulla drammatica vicenda delle banche venete che ha coinvolto in Friuli, Venezia e Giulia 16.000 azionisti di recepire per tempo eventuali altre problematicità e diventare promotore di buone pratiche e degli strumenti finanziari che l'amministrazione regionale mette a disposizione. Lo ha confermato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli dopo l'incontro con i vertici di consumatori attivi. La presidente dell'associazione Barbara Puschiasis ha rinnovato le proposte illustrate alla politica anche nazionale, infatti a tutti i livelli chiediamo alla regione in primi su un impegno presso le istituzioni nazionali per spronarle ad attuare il fondo, ha detto. Contrastare il fenomeno della solitudine quanto si propone una proposta di legge presentata in consiglio regionale. Si tratta di una novità nel panorama italiano. Il gruppo consigliare misto della regione ha presentato una proposta di legge che ha lo scopo di individuare cause e origine del fenomeno della solitudine. In Italia attualmente non esistono leggi regionali organiche sulla materia. Il Friuli Venezia Giulia farebbe da apripista nell'affrontare attraverso una specifica normativa una condizione critica non assimilabile a una patologia e quindi non trattabile in termini esclusivamente socio-sanitari. Il consiglio delle autonomie locali ha già dato parere positivo alla proposta di legge denominata norme per la promozione di iniziative e progetti per la prevenzione del fenomeno della solitudine con 15 voti favorevoli da parte di sindaci e loro rappresentanti e 4 astensioni. Quello che proponiamo è un osservatorio sul tema della solitudine che possa poi definire anche un piano triennale per contrastare questo tipo di problematica. Ovviamente l'osservatorio è a costo zero, sono molti i soggetti che già adesso affrontano particolari problematiche, il contrasto ovviamente alle dipendenze, la promozione dell'invecchiamento attivo, ma sono tutte diciamo frastagliate. Questa è una legge che accende il riflettore su un problema che è l'origine di tutti i problemi. E quindi chi dovrebbe coinvolgere? Quali i soggetti coinvolti in questo osservatorio? Dovrebbe certamente coinvolgere i sindaci, dovrebbe coinvolgere le aziende sanitarie, dovrebbe coinvolgere gli ambiti socioassistenziali, ma anche tutti i soggetti del terzo settore, tutto il volontariato, perché appunto, seppur affrontando tematiche apparentemente diverse, queste hanno tutte un punto di partenza comune, che è la solitudine della persona. Cresce la febbre azzurra, sabato al Friuli Italia-Finlandia e le curve sono già sold out. A quasi un mese dall'inizio della vendita dei biglietti per Italia-Finlandia, gara valida per le qualificazioni Euro 2020, che si disputerà sabato 23 marzo alle 20.45 al Friuli, si registrano i primi sold out nell'impianto dei Rizzi. Sono infatti già esauriti i tagliandi per le curve e la vendita dei biglietti ha fatto registrare a ieri oltre 13.000 tagliandi acquistati. Al momento, sul circuito Ticket One che gestisce la vendita dei tagliandi, si possono trovare a disposizione gli ultimi biglietti nel settore Tribuna Distinti, i cui prezzi arrivano a 35 euro l'uno. C'è qualcosa ancora in Tribuna Centrale Nord, costo fino a 500 euro, mentre sono buone le disponibilità per la Tribuna Centrale, 55 euro, e Laterale Nord, 45. Si confida in un tutto esaurito nello stadio scelto per il primo appuntamento azzurro del 2019, un impianto, quello dei Rizzi, che porta bene alla Nazionale. A Udine, infatti, negli otto precedenti, l'Azzurro si è imposto per sei volte sugli avversari, pareggiando nelle altre due occasioni. In generale, poi, contro la Finlandia, l'Italia ha ottenuto 11 vittorie, un pareggio e una sconfitta, ed è uscita vittoriosa negli ultimi sette confronti disputati. Nel frattempo cresce l'attesa per l'arrivo in città della selezione di Mancini, di cui fanno parte anche il bianconero Kevin Lasagna, alla quarta chiamata dal CT abruzzese, e l'indimenticato ex Fabio Quagliarella, che si candida ad una maglia da titolare. Il gruppo azzurro sarà in città venerdì e rimarrà fino a domenica pomeriggio, poi partirà alla volta di Parma, dove martedì affronterà il Liechtenstein, la seconda gara prevista in questa sosta. Buon punto, quello conquistato ieri dal Pordenone contro il Monza al Bottecchia, la capolista del girone B di Lega Pro continua la marcia verso la Serie B diretta, che a sette giornate dalla fine del torneo la vede lanciatissima, con otto punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, la Triestina. Della gara di ieri e del mondo neroverde, con interviste e contributi realizzati a Pordenone, parlerà questa sera Massimo Radina nella trasmissione Pordenone in gol, in onda alle 19.45, uno speciale dedicato ai Ramarri, protagonisti di una stagione esaltante. Noi ci fermiamo qui, grazie per la vostra cortese e attenzione. Buon proseguimento di serata, arrivederci. Grazie a tutti.